Salve amici, sono davanti al palazzo più ambito della città di Crotone, un palazzo che ha la forma di una casa cantoniera e che comunque rimane il regno principale da cui attingere potere. Sto parlando del palazzo del comune di Crotone. Bene amici, stanno fiorendo come delle belle rose da cogliere, tanti nomi che si candideranno per poter ambire al trono di questo palazzo. Oggi voglio introdurvi il ritorno eventuale perché non c'è nessuna ufficialità, perché per essere ufficiali bisogna passare dal benestare del tribunale di Crotone per quanto riguarda le candidature. Voglio ripetere questa cosa, gli annunci sulla stampa sono una cosa, i fatti sono un'altra, però siccome ci piace fare gossip e calciomercato, quindi prendiamo per finto una notizia che potrebbe essere vera, prendiamo per vera una notizia che in questa confusione è spuntato di nuovo per magia il nome del famoso sindaco decennale Peppino Vallone. Bene caro Peppino, io non so se la notizia è vera, però francamente non mi va di dover ancora farti la stessa predica che facevo tanto tempo fa quando ero un giovane giornalista. Chissi sui fatti che tu avessi fare, ma siccome chissi fatti che tu non le hai volute fare e che non hai voluto ascoltare i cittadini, non hai voluto ascoltare, vabbè è tutta una tua caratterialità, diciamo che i tuoi dieci anni sono stati un calvario perché praticamente bisognava pensare alla Crotone in salita e in realtà con te purtroppo la Crotone in salita è cominciata a scendere, 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 scendere. Non tutte le colpe sono imputabili a te caro Peppino, però francamente siccome tu hai avuto una serie di giunte, una più sgangherata dell'altra, io francamente ci ripenserei e mi godrei gli anni dell'anzianità a fare il saggio, sostanzialmente perché le minestre riscaldate non hanno mai funzionato in questa città e siccome in questo periodo storico il Partito Democratico vive un attimo di demenzialità perenne direi, io sostanzialmente proprio perché tu comunque ti sei sacrificato per la causa del comune di Crotone, per la dignità della città di Crotone, ti auguro vivamente e con tanto amore che tu non pensi a ricandidarti come sindaco. Ovviamente cercheremo di essere vigili e di stare attenti. Caro Peppino, dieci anni sono stati molto ma molto difficili da digerire e siccome chi è venuto dopo di te non è stato considerato valido per amministrare la macchina comunale, ecco non voglio che il Partito Democratico ripensi a un'operazione Amarcord, un'operazione ricordo nostalgia che francamente non fa impressione più a nessuno perché oltre a te pare che dal loro sarcofaghi o dalle loro bare, scusate la letterarietà dell'espressione, stiano risuscitando altri vecchie mummie, qualcuna più giovane, qualcuna più anziana, ma sempre operazione nostalgia si tratta. La città ha bisogno di proiettarsi nel futuro, non nella nostalgia. Quindi, cari amici del Partito Democratico, mi auguro che avviate ancora un percorso spirituale molto pesante e che capiate che Crotone non si trova nel 1950, bensì nel 2020, che sta per affacciarsi il 2021. Quindi, semmai, preparatevi, se non avete altro va bene, candidate Peppino, però se candidate Peppino vuol dire che non avete altro. E questo è il triste percorso di un partito che non si sa che cosa sia. Alla prossima!